ciao ragazzi io sono ara e benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo questa statua molto particolare di goku per la nuova linea maximatic o maximatic di ban presto di cosa si tratta la nuova linea di statue e loro ci tengono a precisare questa cosa qui this is a figure series made with maximum size molding and coloring techniques so it's known as maximatic quindi praticamente ci sono dicendo che questa è una serie di statue fatta con un materiale pesante infatti si sente e anche non solo ma anche una colorazione a quanto pare abbastanza più precisa quindi non vedo l'ora di vedere di che pasta è fatta naturalmente fatta da ban presto e bandai questo in particolare si chiama the song goku numero 3 comunque questa qui è la parte frontale della confezione questo qui è uno dei lati questo qui è l'altro lato questa è la parte superiore questa qui è la parte inferiore e questo qui è il retro della confezione giustamente con il retro della statua ma direi di non perdere altro tempo andiamo subito a vederla fuori dalla confezione eccolo qua il nostro goku pompatissimo a torso nudo questo qui potrebbe essere il goku contro vegeta o anche il goku contro radici in realtà credo sia quello contro vegeta però nel caso avessi sbagliato correggetemi qui sotto nei commenti comunque come vedete già da lontano si vede che il painting diciamo è fatto meglio delle l'alte comunque già da lontano si vede che il painting è fatto con un maggiore impegno soprattutto vedete le sfumature sul busto sono veramente fighe ma anche quelle sui pantaloni ragazzi si vede che c'è una maggiore applicazione come sempre ragazzi accompagnato da questo piedistallo io non capisco perché si ostinino a farlo non trasparente perché vedete la statua comunque si regge da sola però per dare più stabilità si mette questo che si appoggia qui il problema è che è abbastanza brutto da vedere potevano farlo trasparente devono farlo trasparente nelle prossime uscite io non riesco a capire perché si ostinino a farlo di un colore che poi dà anche fastidio all'esposizione comunque ragazzi ve lo faccio vedere da lontano già si possono appunto intravedere tutti i dettagli è un goku che sta sfidando qualcuno credo vegeta ecco qui anche la parte posteriore comunque è fatto molto bene e ora andremo a vedere più nel dettaglio il painting e anche lo sculpt e vi farò vedere che è molto preciso e di alto livello nonostante sia una statua che costi veramente poco e soprattutto ragazzi è bella pesante questa è una figata non ci sono parti vuote è tutta piena diciamo eccoci qua con uno zoom sul volto questo volto di goku vedete sorridente ma un sorriso abbastanza anche in difficoltà nonché un sorriso di sfida devo dire che è fatto molto bene un'espressione molto molto particolare va vista diciamo più da lontano che non spiaccicato così da vicino perché da vicino forse risulta un po strano comunque anche i capelli sono ben fatti lì non ci sono sfumature le sfumature invece come vedete ci sono e come sulla muscolatura ragazzi a me piacciono veramente tanto ne hanno fatte davvero bene qui sulla schiena invece non si sono sprecati più di tanto non si capisce perché ci hanno dato dentro sulle braccia sul sul torace e invece qui sulla schiena forse se ne sono dimenticati un po strana questa cosa oppure si tratta anche magari di un effetto di ombreggiatura che hanno voluto dare di proposito non lo so ragazzi comunque anche qui sul retro vediamo che il pantalone più chiaro mentre sulla parte davanti diventa chiaramente più scuro e tutto sfumato sfumato tra l'altro molto molto bene vedete non c'è nessuna sbavatura sono fatte veramente bene e qui ci sono gli stivali con questo painting naturalmente giallo nella parte centrale e con il laccetto vedete rosso anche questi dipinti molto bene e la suola tra l'altro è di questo color beige non è dello stesso colore appunto della parte gialla quindi un'attenzione per i dettagli niente male anche la cintura è stata fatta molto bene come vedete in plastica morbida per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando andiamo a misurare l'altezza di questa statua e come vedete è bella grande siamo sui 26 centimetri quindi 10 pollici e mezzo eccola qui a confronto con il goku super saiyan blu e sage figures e con il mitico monenza spiderman marvel select quindi come vedete un bel pezzo di goku ed eccolo qui sulla basetta rotante devo dire che la mette a dura prova perché come vedete sembra piccolissima in confronto alla statua ma in realtà non è piccola la basetta ma è la statua che è molto grande devo dire che è veramente un'ottima statua ragazzi l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è appunto il fatto che vedremo adesso vi ho fatto vedere prima che vedete sul retro praticamente hanno smesso di dare le sfumature non che qualcuno debba posare la statua di spalle per carità però diciamo è un po' strana come cosa avrebbero potuto impegnarsi e dare le sfumature anche sulla schiena anche perché lo scout è fatto veramente bene ma appunto mancano le sfumature molto strano questo fatto da parte di bandai e ban presto però devo dire che la resa generale ovviamente vista frontalmente è veramente ottima ragazzi le sfumature fanno il loro dovere danno una profondità veramente incredibile a questo pezzo un pezzo che chiunque può permettersi perché veramente costa pochissimo però è una statua molto grande è un bellissimo goku io ve lo straconsiglio nel caso vogliate un pezzo del genere nel caso vogliate un goku magari a torso nudo nella vostra collezione comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate adesso di questa statua con un commento qui sotto se vi piace se non vi piace il like al video è sempre gratissimo così come anche la condivisione se voleste acquistarla potete trovare nel mio sito ara shop nella scheda di nato se non c'è la scheda lo trovate qui sotto nella descrizione detto questo grazie a tutti per la visione noi ci vediamo alla prossima ciao da ara da goku e collezionate sempre